ciao amici di italia talk games stamattina lo sapete con pes 2021 mobile non ho grande affiatamento l'ho scaricato per la prima volta adesso ho provato a fare anche una partita ma non fa per me ragazzi cioè devo giocare sul pc o console io però visto che in questo momento pes 2021 per pc console non si aggiornano visto che di football continuiamo a fare eventi diamo un'occhiata ad esempio ho scoperto che nel nel football shop c'è maradona ricard bebeto nakamura berry e senamuang 5.000 punti ci vogliono ci sono ancora 132 giorni quindi 369 12 4 mesi e qualcosa c'è a fare 5.000 punti football non sono pochi però magari ce l'avevate da parte voi io no assolutamente allora andiamo un po a vedere i giocatori che ho disponibili allora intanto qui ho due due osservatori lì non posso non me li fanno tattiche preferite ingaggiamo tanto tutti i giocatori fetechia tutti i nomi e peschiamo e della mayer napoli amazon emporio armani 7 morì a secondo giocatore dove andiamo dove andiamo nel resto del mondo e peschiamo tavata nessuno si è andato andiamo su gli agenti allora agenti iniezione limitata box draw ce ne sono questi giocatori worldwide che mi sembrano avvero molto interessanti andiamo a pescarli perché ecco sono solo 11 giocatori e di livello mbappé courtois barella odegaard dupamecano pavon zarabia fred caleta gara alex moreno gallagher e io vado subito qui ce l'ho mai leggiamo un po uh che bello upamecano mi sembra che sia eh si è lui uno dei testimonial del gioco ottimo 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 con lui facciamo un bel passo in avanti in difesa upamecano dell'icta è veramente una bella squadra usiamo le altre 100 monete d'oro spagna 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 chi c'era chi è chi è chi è alex moreno bel terzino sinistro wow belle pescate e poi volevo mostrare un'ultima cosa nel box draw qualcuno mi ha fatto notare e mi sembra che abbia ragione se non ce l'ha qualcuno mi venga incontro facciamo notare che oltre a crui finiesta figo maldini gerard cafù c'è a kinzaghi lizzarazzù gilberto silva c'era pure cannavaro perché non lo ritrovo più cannavaro oh my god l'avevo visto io cannavaro l'avevo visto ah che stava qui ah stava tra gli iconic moment del del madrid scusate eccolo qui cannavaro mi sembra che sia nuovo mi pare che abbia ragione non l'avevo visto mai o mi sbaglio qualcuno se lo ricorda che ha la memoria migliore della mia bene comunque in conclusione pes 2021 mobile è risorto davvero del tutto con tutte le novità del caso purtroppo versione pc e console no l'ho detto in più di un'occasione konami ha dichiarato che l'avrebbe voluto fare ma ci sono dei problemi tecnici e di licenze non si sa se sono di tecniche di licenze o sia tecniche di licenze per cui non possono aggiornare pes 2021 su pc e console questo è quanto ragazzi mi dispiace molto anche a me perché a questo punto con i football con questi eventi più o meno sempre uguali a se stessi e c'era un pochino più di novità anche su pes 2021 comunque questo è quanto nei prossimi giorni magari vediamo di fare qualcos'altro su pes 2021 mobile comunque avete visto cannavaro maradona upamecano barella tanti giocatori in evidenza interessanti io vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video andiamo sui football 2022 ciao